Tra poco meno di un'ora all'Westfalenstadion di Dortmund, Olanda e Inghilterra si sfideranno nella seconda semifinale di 2024 euro, ad attendere la vincente tra Orange e Etre e le Unici sono le Furie Rosse della Spagna, uscite vincitrici dalla prima semifinale, ieri contro la Francia. L'Olanda cerca un ritorno in finale che manca dal 1988, quando vinse il suo unico titolo internazionale. L'Inghilterra vuole la seconda finale consecutiva portare a casa un titolo internazionale che per gli inglesi manca addirittura dal Mondiale Casalingo 1966. Le formazioni ufficiali.Olanda, 4-2-3-1, Verbruggen, Domfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schauten, Reinders, Malen, Simons, Gacapo, Depay. Citi Ronald Koeman.Inghilterra, 3-4-2-1, Pickford, Walker, Stones, Guay, Trippier, Maino, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane. Citi Garrett Southgate.